Qual è la fisiopatologia dell'insufficienza cardiaca con gestizia? La fisiopatologia dell'insufficienza cardiaca con gestizia è la progressione di cambiamenti fisiologici che definiscono un marcato deterioramento della funzione cardiaca. Lievi all'inizio, i sintomi associati alla fisiopatologia dell'insufficienza cardiaca con gestizia peggiorano con il tempo per minacciare in definitiva la salute del cuore. Il trattamento per l'insufficienza cardiaca con gestizia, CHF, è incentrato sul rallentamento del deterioramento cardiovascolare. Farmaci e interventi chirurgici sono abitualmente utilizzati per alleviare i sintomi e alleviare le condizioni che possono contribuire alla diminuzione della funzione cardiaca. Ogni anno a oltre 500.000 americani viene diagnosticata un'insufficienza cardiaca con gestizia, che comporta un tasso di sopravvivenza a 5 anni di poco superiore al 50%. I primi segni di CHF, come una diminuzione della resistenza fisica e la mancanza di respiro persistente, di solito richiedono una visita al proprio medico. I test diagnostici progettati per valutare la funzione cardiovascolare, inclusi eco ed elettrocardiogrammi, sono strumenti primari utilizzati per la diagnosi di CHF. Gli individui sintomatici possono anche sottoporsi a raggi X, pannelli di sangue e cateterismo cardiaco per valutare la condizione fisica del cuore e valutare la sua funzione e valutare la funzione arteriosa attorno al cuore. I primi segni della fisiopatologia dell'insufficienza cardiaca con gestizia sono spesso sottili. Gli individui che manifestano stanchezza persistente o debolezza fisica episodica possono allontanare i segni come stress legati o attribuirli a riposo insufficiente. Alcune persone possono sviluppare una diminuzione dell'appetito o periodi di nausea, che possono essere scambiati per i primi sintomi influenzali. Mentre l'insufficienza cardiaca con gestizia progredisce, un individuo può mostrare un aumento di peso pronunciato a causa della ritenzione di liquidi causata dalla diminuita capacità del cuore di far circolare il sangue in tutto il corpo. In relazione alla fisiopatologia dell'insufficienza cardiaca con gestizia, la diminuzione della funzione cardiaca spesso contribuisce a diffondere disfunzione d'organo. La ritenzione di liquidi che contribuisce all'aumento di peso alla fine inizia a influire negativamente sulla funzione dell'organo. La circolazione sanguigna compromessa può favorire l'accumulo di liquidi nei polmoni causando congestione e mancanza di respiro che peggiora progressivamente. Flusso di sangue alterato può anche scatenare vertigini episodiche o vertigini a causa della diminuzione del flusso di sangue al cervello. La prolungata compromissione della circolazione sanguigna attraverso il cuore stesso può causare infarto miocardico, infarto e cicatrizzazione dei tessuti. Al fine di rallentare gli effetti dell'insufficienza cardiaca con gestizia, possono essere utilizzati farmaci, misure proattive di autocura e chirurgia. Farmaci progettati per alleviare la costrizione arteriosa, abbassare la pressione sanguigna e promuovere la flessibilità del cuore sono spesso prescritti. In alcuni casi, può essere necessario il ricovero per stabilizzare la propria condizione. Gli individui con CHF sono incoraggiati a prestare molta attenzione ai loro sintomi e segnalare eventuali cambiamenti significativi al proprio medico. Per alleviare i fattori contributivi sottostanti di CHF, la chirurgia può essere raccomandata. Stenting arterioso, sostituzione della valvola e bipas coronarico sono tra le procedure chirurgiche più comuni eseguite. L'impianto di un pacemaker o di un defibrillatore può anche aiutare a rallentare gli effetti della fisiopatologia dell'insufficienza cardiaca con gestizia. Non c'è cura per CHF.